il tocco fuori per pulzetti destro avvitato piscitelli parte diamanti cross tagliato al centro colpo di testa aereo poi dainelli indicazioni di piscitelli a brugman sul primo palo che va un altro cross a cercare Okereke la chiama e la fa sua piscitelli cross che arriva centino maggio a piscitelli guarda il campo davanti ma qua limite vuole calciare curato Corri a sinistra, vissi sopra con Alessarovski, 10 punta, può calciare con il destro! Vanille verso Ngombo, Poli, Beretta, gran controllo, Beretta! Grande risposta! Giusto? 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 Angelico vince, lo rimette dentro Palla lì, Barai Why do I, baby, why do I? Love the ties, we'll never love the feeling Why do I, baby, why do I? 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 Love the ties, we'll never love the feeling Puminello, ancora Piscitelli Diventa ottimo per Bakogu, 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 Bakogu Piscitelli tiene in vita il Carpi Tococcuori per Pulsetti, destro avvitato, Piscitelli Divucata con l'occasione Ii love the juice ganzen I and Matt I haven't been Bessy It's road